Invece adesso ci fai ascoltare una canzone che è un inedito, che tu hai dedicato alla tua mamma. A mia madre. Allora, di cosa parla? Prima di tutto voglio dire chi l'ha scritta, che è il maestro Romeo Cagossi, un autore, scrittore, musicista, un po' di tutto, avvocato pure, di Salerno, molto bravo, e che ha scritto questo brano per me. Bene. Praticamente parla di questo fanciullo, ecco, questo fanciullo piccolo, dove la mamma lo stava appunto lasciando, e mi fanno tanto cegno, posso continuare? Vai, 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 il volo! Quindi praticamente dici tu non ti preoccupare, anche se non ci sarai più, io ti proteggerò, sempre. Quindi c'è sempre un alune di protezione. Enza Canà! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Mi avvicinai, e le bambole contai, sopra il letto accanto a te. Poi lasciasti che, poi lasciasti che, briciole di vita sparse attorno a me, vestissero i miei giorni senza te. Sai, il tempo non ci ferma mai, se il mio finisce qui, da solo non sarai, perché saprò proteggerti nel prego degli inferni tuoi. Vicino ti sarò, e da solo non sarai, ma resta sempre ciò che sei amica mia, sarà la donna che c'è in te. Io, senza di lei, senza di lei, in un mondo che non sa darmi che infelicità. Ma, ma camminerò con il capochino solo se saprò negare questa mia diversità. Sai, il tempo non si ferma mai. E dai ragioni tu, da solo non si ferma mai. Se puoi, se puoi vestire un attimo di quello che davvero vuoi. Sei libero lo sai, ma quanto avrai nel cuore ciò che fa. Un uomo vero tu mi capirai. Se puoi vestire un attimo di quello che davvero vuoi. Sei libero lo sai, ma quanto avrai nel cuore ciò che fa. Un uomo vero tu mi capirai. Se piangere, se piangere saprai. Il tema è molto importante, si sente moltissimo. Allora ragazzi, adesso dove vai? Prendo l'asta perché si chiama asta perché asta là. Asta là, e quindi porta da lì. Tu dove vai? Tu segui l'asta che asta là. Prendi.